Eccoci qua, bentrovati, buonasera a tutte e tutti. Buonasera. Ben ritrovati da Luca Martini, da Viviana Salvati per questo quarto appuntamento di Storie sul pezzo. Lo sapete, uno spazio di condivisione, di riflessione sulla drammaturgia contemporanea. Ricordiamo che gli incontri che abbiamo già fatto sono disponibili su YouTube e li trovate sulla pagina del nostro sito matearium.it. Adesso Luca vi linkerà la pagina del sito proprio dedicata a Storie sul pezzo in cui appunto è possibile visionare le registrazioni degli incontri di dicembre e l'altro di gennaio del 15 ma l'invito chiaramente è sempre quello di visitare il nostro sito e curiosare tra tutte le nostre proposte. Ci presentiamo, per chi non ci conosce, Matearium è un laboratorio permanente di scrittura che si dedica principalmente alla formazione di nuove autrici e nuovi autori di teatro. Perché abbiamo così scelto di creare Storie sul pezzo? L'obiettivo è quello di creare uno spazio innanzitutto di condivisione per parlare di testi teatrali contemporanei che in particolare affrontano i temi caldi del presente. Negli appuntamenti di dicembre abbiamo affrontato alcuni testi teatrali che riguardavano il tema dell'identità e del ruolo di genere mentre il tema degli appuntamenti di gennaio è la decolonizzazione delle storie. L'appuntamento di due settimane fa ci ha regalato tanti spunti interessanti e che questa sera abbiamo tanto desiderio di approfondire con Giulia Tollis direttrice artistica di Matearium che ci regalerà parte della sua ricerca bibliografica finalizzata alla scrittura originale di un testo teatrale. Ciao Giulia e grazie di essere qui con noi questa sera. Buonasera a tutte e a tutti voi, grazie per l'invito e sono felice di continuare questo racconto e queste domande con voi. Grazie Giulia, ben trovata quindi anche a te. Prima di entrare nel vivo dell'appuntamento di oggi ricordiamo come scegliamo i testi di cui parlare qui a Storie sul pezzo. Ci siamo chiesti e abbiamo anche chiesto a voi quali sono le grandi domande del nostro tempo. certi che il teatro sia uno spazio in cui il presente si specchia. La necessità di decolonizzare le storie, di prendere coscienza della presenza ingombrante, lo avevamo definito due settimane fa, di questo abito culturale che condiziona le storie e anche il nostro modo di ascoltarle. Ecco, questo certamente è un bisogno che non si può più ignorare. Giulia Tollis sta affrontando la scrittura di un testo teatrale sui diritti di cittadinanza e quindi si sta addentrando nello studio di come la drammaturgia affronta ed elabora la questione a partire dalle narrazioni sull'identità dello straniero come stereotipo. Questa sera ci regalerà parte della sua ricerca personale nella drammaturgia contemporanea. Due settimane fa abbiamo parlato di un testo in particolare, ricordata, era Acqua di Colonia, di Elvira Frosini e Daniele Timpano, che trattava la questione della rimozione del colonialismo italiano. Questa sera invece ci guiderà in una panoramica del personaggio afrodiscendente nella drammaturgia italiana dagli anni 2000 a oggi. Vedremo con lei come siano cambiate le cose in questi anni, come si sia intrapresa forse la strada giusta, ma anche di quanta strada ancora ci sia da fare, non solo in termini di diritti in sé, diritti lo sappiamo troppo spesso negati, ma anche proprio in termini di rappresentanza. Ecco, prima di passare la parola a Giulia, Viviana, direi che possiamo ricordare ancora una volta le regole del gioco. Dunque, come vi è stato scritto via mail, assieme al link di partecipazione, ci piacerebbe rendere pubblico il video degli incontri, quindi teniamo le vostre videocamere, i vostri microfoni spenti, ma potete comunicare con noi tramite la chat. Ci terremo degli spazi per le vostre considerazioni, i vostri commenti, le vostre domande e soprattutto i vostri suggerimenti. Adesso finalmente entriamo nel vivo dell'appuntamento di questa sera, lasciamo la parola a Giulia Tollis, direttrice artistica di Materium, dramaturga, formatasi alla Civica Scuola Paolo Grassi di Milano. In seguito ha continuato la sua formazione in Francia, in Germania, oggi vive e lavora a Milano, dove collabora con teatri e associazioni culturali della città. Come abbiamo ricordato prima, in questo momento sta curando un progetto triennale che coinvolge adolescenti, attori, attrici, professioniste in un percorso sui diritti alla cittadinanza, che si concluderà nell'autunno del 2024 con la messa in scena di uno spettacolo originale dedicato alla scuola, progetto del quale magari dopo Giulia desideriamo che possa raccontarci qualche cosa di più, perché siamo curiosi. Adesso ti lasciamo la parola, come sempre parleremo di alcuni testi teatrali e leggeremo insieme alcuni estratti. Grazie Luca e grazie Viviana per questa introduzione. Allora, la prima cosa che tengo a dire per chi non era presente al primo appuntamento è che quello che porto qui a queste serate di Storia sul pezzo è una parte di ricerca, ovvero dei titoli, una bibliografia che mi stanno accompagnando in questi anni proprio per leggere chi prima di me ha affrontato delle questioni che riguardano le storie da decolonizzare e che riguardano la rappresentazione anche di personaggi che non sono personaggi italiani ma che sono personaggi con un background migratorio. La settimana scorsa, come diceva Luca, abbiamo attraversato il testo di Frosini Timpano e siamo entrati in un mondo legato alle narrazioni che sono state fatte intorno al colonialismo italiano. Questa sera riprendiamo da un autore che è un autore piemontese, Antonio Tarantino e dà un testo in cui da voce ha un personaggio, un vecchio signore chiuso, arroccato nel suo appartamento che in qualche modo indossa in maniera purtroppo inequivocabile l'abito culturale di cui parlava prima Luca. Stiamo parlando di stranieri è un testo che Antonio Tarantino scrive nel 2000 quindi è un testo che ha ormai quasi 25 anni e questo testo è un testo che vede in scena tre personaggi è un testo diviso in dieci scene i tre personaggi sono un uomo molto anziano senza nome che si aggira in un alloggio senza darsi pace e sua moglie e suo figlio che invece si trovano sul pianerottolo e cercano di in qualche modo captare, ascoltare, sentire se il padre, il marito in casa è ancora vivo. Il testo si divide in dieci quadri e hanno tutti la stessa struttura tranne l'ultimo una voce monologante che apre il quadro la voce del padre e poi un dialogo che si articola tra la figura della madre e del figlio appunto su questo pianerottolo solo nel decimo quadro assistiamo a un dialogo tra i tre personaggi è un testo che conta una sostantina di pagine in tutto è un testo dove il personaggio appunto di questo uomo anziano arringa contro chi sta fuori contro chi deve rimanere fuori questo personaggio costruisce il suo punto di vista ed è un punto di vista intriso di paura del diverso, dell'altro e proietta dietro questa porta chiusa le sue paure dando vita a un affresco di uomini e di donne stranieri che dipinge come delinquenti che dipinge come nullatenenti approfittatori, parassiti, malfattori e questo personaggio ci mostra e ci racconta un punto di vista violento e un punto di vista però molto molto radicato all'interno del piccolo mondo in cui quest'uomo ha deciso di vivere per farvi capire meglio di che cosa stiamo parlando darei voce al personaggio di Tarantino chiedendo a Luca di leggerci questi stralci di un monologo che più che un monologo è un flusso di coscienza frammentato dettato dalla paura dell'altro molto volentieri Giulia facendo sempre la premessa un po' ripetitiva mi rendo conto ma doverosa che non sono un interprete quindi lo faccio mosso dal cuore e non da una reale competenza Antonio Tarantino stranieri in la casa di Ramalla e altre conversazioni smettetela andate via non apro cascasse il cielo oddio tutto bloccato è venuto il tecnico sistema antifurto c'è un mucchio di ladri in giro oggigiorno colpa del governo accoglienza tutti delinquenti quasi tutti l'ho mandato via veniva due ore alla mattina già incinta la catenina d'oro Raus così impara dovrebbero stabilire il numero legale non hanno voglia di lavorare non apro io non aprire andare via fare passeggiata andare alla Caritas cosa aspettate andate a casa voi non avere una casa non vi affittano basta che non venite su tutti assieme venite pochi alla volta e non piazzatevi fuori dalla mia porta è inutile che aspettate non c'è niente da rubare non c'è niente da portare via non c'è niente da spedire in Africa grazie Luca per la lettura perché ho scelto di partire da questo testo perché ho scelto di partire da il punto di vista più lontano e più più lontano dall'idea che io ho di poter scrivere di un personaggio oggi con un background migratorio ma mi interessa questa figura a cui da voce Tarantino perché racconta di un'umanità impaurita incapace di entrare in relazione in rapporto nell'incontro con l'altro e quindi in questa incapacità mette in campo una generalizzazione e crea un grande muro appunto con le parole che tiene distante che tiene fuori tutto quello che non riconosce e che non gli assomiglia chiederei a Viviana di farci vedere l'immagine di una delle rappresentazioni di questo testo testo che è stato messo in scena da tra gli altri anche da Marco Martinelli del Teatro delle Albe da Ermanna Montanari nel 2007 testo che è stato scritto da Tarantino questo ci racconta anche del Friuli che è il posto da dove io vengo è stato scritto per un premio il premio Candoni ed è stato letto per la prima volta proprio a Udine all'interno della stagione del Teatro Contatto del CSS Centro Servizi e Spettacoli Questa immagine in particolare insomma è la ripresa la foto di scena di di stranieri con la regia di Gianluca Merolli l'attore in scena è Francesco Biscione molto interessante secondo me la scenografia c'è questo cubo insomma dalla foto forse non si vede bene comunque che ha queste due pareti inesistenti quindi un cubo in cui si vede all'interno è una scenografia di Paola Castrignano ed è rivestito questa superficie riflettente dorata che vedete si tratta di coperte termiche che quindi ci riportano alla memoria delle immagini di spesso di questi di quando i profughi vengono accolti dai barconi e vengono riscaldati con queste coperte termiche quindi è un genere che appunto viene ripresa a rivestire la casa di quest'uomo arroccato nella sua abitazione tra l'altro Giulia parlavi della scelta di questo estratto in particolare perché porta un pensiero molto lontano fa parlare un personaggio che porta un pensiero molto lontano da quello che invece può sentire mi ha colpito questa parola lontano perché questi pensieri così lontani spesso da quello che è il nostro sentire vivono in persone invece a noi a volte molto vicine talvolta anche insospettabili per il tipo di rapporto che può esserci e questa dicotomia tra vicino e lontano mi ha colpito e visto che stiamo comunque parlando di storie sul pezzo e quindi di storie che si relazionano con il presente le notizie anche delle ultime settimane che abbiamo potuto sentire rispetto a dei progetti o delle strategie di rimigrazione quindi con questa idea di riportare nel continente africano persone che sono arrivate da lì o anche persone che sono nate e cresciute in Europa ma che hanno un background migratorio purtroppo in effetti fa parte dei fatti del presente quindi questo testo che è un testo scritto nel 2000 in realtà fa da voce a un personaggio che continua ad avere ancora spesso troppa voce a questo proposito mi collego Giulia per così suggerirvi la 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 visione adesso vi mando nella chat un link a una breve intervista a Marco Martinelli come ha citato Giulia appunto straniera è stato messo in scena dal teatro delle albe e Marco Martinelli appunto il regista dello spettacolo in cui Marco Martinelli appunto parlando di questo personaggio chiuso nel 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 suo appartamento parla del del fascismo come come di una condizione come di una condizione personale quindi un fascismo non inteso come dittatura ma come qualcosa di di interno di che fa parte della della nostra storia in maniera molto molto pesante e quello che dice Marco Martinelli è sostanzialmente che il fascismo è proprio questa assenza di relazione con l'altro e quindi il il chiudersi no il il sentire sempre il bisogno di di tenere questa distanza dall'altro è proprio una una manifestazione della del di 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 un vivere una condizione di essere fascista insomma io personalmente mi ritrovo molto in questa definizione di fascismo che fa Martinelli perché taglia un po' la testa al toro a chi vuole relegare il fascismo come un fenomeno episodico del passato nuovo storico liquidandolo troppo facilmente velocemente quando invece si tratta di dinamiche che ahimè sono molto presenti nella società di oggi e come ci ricordava Giulia basta buttare un occhio all'attualità assolutamente mi colpisce l'immagine che Viviana ha scelto di questo allestimento e anche la l'idea della regia della scenografia di istruire i muri di questa casa con un materiale così effimero leggero come quello delle coperte termiche che servono ad accogliere le persone che arrivano sulle nostre coste perché il secondo testo di cui vi voglio parlare che compone la bibliografia di questa sera è una raccolta di testi è una trilogia la trilogia del naufragio di Lina Prosa che si compone di tre atti unici in cui i protagonisti e le protagoniste sono delle persone migranti che stanno abbandonando il continente africano per compiere un viaggio periglioso e in alcuni casi letale attraverso il mar Mediterraneo per raggiungere l'Europa e quindi la porta dell'Europa in questo caso l'Italia il testo di Lina Prosa è un testo che ha una storia composita il primo atto unico di questa trilogia che si intitola Lampedusa Beach viene scritto nel 2003 dall'autrice e non viene messo in scena in Italia ma viene messo in scena per la prima volta a Marsiglia in Francia è un testo che viene in questo caso non viene tradotto nel senso viene rappresentato in italiano con una sottotitolazione in francese nell'idea che fosse importante per il teatro stabile di Marsiglia che lo produce di fosse molto importante mantenere la voce dell'autrice quindi una voce italiana la voce di un'autrice nata a Palermo che vive a Palermo che a Palermo ha il suo teatro e una sua compagnia e che nel tempo si è dedicata molto a delle riscritture dei miti Pentesilea Medea Ecuba figure femminili archetipiche sono state la base dei suoi dei suoi testi e qui Lina Prosa invece nel 2003 decide di scrivere con una scrittura che è lei propria che è molto legata al linguaggio della poesia e del mito un testo che racconti l'epopea di una donna Shauba che abbandona il suo il suo paese di origine per intraprendere questo viaggio alla ricerca di un futuro migliore all'interno del testo che si sviluppa sotto forma di monologo Shauba ci porta all'interno della sua storia della sua storia familiare e ci porta all'interno delle dinamiche di compravendita di questi viaggi viaggi di questi viaggi per cercare fortuna ci racconta la figura di una donna di una sorta di zia di accompagnatrice che per lei si occupa di comprare il biglietto di questo viaggio e ci racconta tutto quanto il percorso che questa donna fa attraverso il mar mediterraneo fino purtroppo al tragico epilogo che la vede morire tra le acque questo è uno dei tre capitoli di questa trilogia dieci anni dopo nel 2013 viene messo in scena il secondo capitolo un altro atto unico in questo caso Lampedusa Snow e questo testo invece ha come protagonista un un altro un'altra persona che decide di partire e in questo caso il protagonista in questo caso il protagonista è un migrante africano che sbarca a Lampedusa ma che viene portato in una baita di montagna sulle alpi orobiche in inverno con la neve questo questo racconto parte da un fatto di cronaca l'autrice viene a conoscenza della morte di un giovane migrante africano che viene ritrovato morto assiderato con appunto in tasca una domanda di asilo politico rifiutata e da questo fatto di cronaca parte la scrittura di questo secondo di questo secondo capitolo anche qui il linguaggio è un linguaggio poetico è un linguaggio che cerca di raccontare attraverso delle immagini delle sensazioni fisiche corporee dove questa grande neve copre soffoca diventa a tutti gli effetti una tomba il terzo capitolo di questa trilogia che viene scritto l'anno successivo su richiesta della Comédie Française perché anche in questo caso Lampedusa Snow viene rappresentato in Francia alla Comédie Française che poi chiede Alina Prosa di scrivere il terzo capitolo nel terzo capitolo abbiamo due personaggi che vengono citati Lampedusa Way due personaggi che vengono citati nei primi due atti unici Mahama e Saif una zia adottiva di Chiaouba la protagonista del primo episodio e Saif lo zio adottivo di Mohamed il protagonista del secondo episodio in questo in questo racconto ci troviamo a Lampedusa questi due personaggi sono a Lampedusa e sono alla ricerca dei loro figli adottivi dei loro nipoti adottivi che non sanno essere appunto deceduti mi piacerebbe leggere con voi io ho visto questo spettacolo ci tengo a dire anche questa cosa io ho visto questo spettacolo nel 2015 a Milano il piccolo teatro di Milano ha deciso di rappresentare tutti e tre gli episodi e quando ho visto questo lavoro mi ha colpito particolarmente perché l'ho trovato un ho trovato l'opera un'opera di teatro civile ma scritta sotto forma di poesia e mi ha affascinato la scrittura mi ha mi ha mi ha trasportato mi ha molto emozionato il tipo di scrittura che usa Lina Prosa ha questa capacità di emozionare e di raccontare attraverso appunto le sensazioni quello che i personaggi provano poi anni dopo quando ho iniziato la mia ricerca sono ritornata su questo testo perché mi ha aperto delle domande sulla legittimità di costruire dei personaggi di finzione in questo modo ma prima di tornare alla domanda che mi ha aperto vorrei leggere con voi un estratto dal primo capitolo quindi 2003 Lampedusa Beach a parlare è la protagonista Shauba nel viaggio sono dei pensieri che lei ha nel viaggio che sta facendo per arrivare dall'Africa all'Italia bene io faccio mia la la premessa di Luca prima neanche io sono un'attrice mi dispiace farò quello che potrò Lina Prosa Lampedusa Beach signor capo dello stato italiano togli l'acqua tra l'Italia e l'Africa noi non abbiamo barche adatte per venirti a trovare non abbiamo elettropompe a fare lavori così impegnativi mi hanno detto che un certo Leonardo potrebbe fare un lavoro del genere togli l'acqua e vedrai giù in fondo che Italia e Africa sono unite ecco il mio programma all'inizio farò la colf presso una famiglia italiana mi piacerebbe una famiglia capitalista voglio vedere da vicino come sono fatti i capitalisti ma ama mi ha insegnato a pronunciare bene la parola colf non farò brutta figura te l'assicuro sarebbe meglio babysitter io amo i bambini mi accontento lo stesso dopo un anno di lavoro farò la lavoratrice studente di sera corso di informatica una volta preso il diploma mi impiegherò in un ufficio di Roma diterò tutto il giorno o forse si dice digiterò tornerò ogni tanto a trovare la famiglia capitalista perché io mi affeziono signor capo dello stato italiano lei mangia fa molliche ha bambini posso venire a lavorare da lei il mio programma non finisce qui a furia di digitare diventerò un'esperta diventerò un iccaro no che dico un hacker mi perdoni l'errore in questa parola mi sono esercitata da sola si vede che non c'è la mano di Mahama Mahama condanna qualunque idea sovversiva entrerò nel computer di casa sua signor capo dello stato italiano guarderò tutto quello che non è possibile vedere Shauba Iccaro hacker girerà nuda tra le sue leggi porterà scompiglio anche perché nel suo computer ci sono solo leggi maschili mi distenderò sull'ardivere si dice così con le cosce aperte i file citati non faranno caso al colore della mia pelle verranno a me come mosche di questo non sarò io la responsabile ma la natura umana maschile si lamenti di come sono fatti gli uomini signor capo dello stato italiano stando così le cose per una certa questione morale le consiglio di chiudere lo stato per almeno un'ora io mi ritiro ma lei chiuda nasconda la vergogna io darò il via al più grande esodo africano in un'ora ce la farò se lei chiude se chiude un occhio devo aiutare quelli come me e in arrivo a Lampedusa un'altra carretta del mare mia cugina è lì nell'altra ancora c'è la figlia di mia cugina nell'altra ancora la prima nipote incinta perché signor capo dello stato italiano quelli dell'Africa siamo come una collana di perle spezzata ci sfiliamo ad uno ad uno qualcuna cade in buone mani qualcuna si perde qualcuna arriva a destinazione qualcuna annega e tutto finisce qui grazie grazie Viviana per esserti prestata alla lettura dicevo quando ho visto questo testo rappresentato al piccolo teatro di Milano ho trovato che la forma dell'invenzione linguistica potesse essere una forma che poteva permettere anche a un'autrice appunto palermitana bianca di raccontare una storia vissuta da un altro da sé da un corpo altro da un corpo con una vita e con un'esperienza di vita totalmente diversa mi sembrava che potesse essere così così come mi sembrava che il fatto che in scena a raccontare quella storia ci fosse un'attrice italiana bianca vestita di bianco che interpretava quel personaggio di Shauba potesse essere corretto nella misura in cui quell'interprete si faceva portavoce di una storia con il tempo e con con l'osservazione del mondo della realtà intorno a me e anche con il desiderio di appunto iniziare a scrivere di questo progetto che abbiamo nominato prima legato al diritto di cittadinanza sono ritornata a quella sera a teatro e mi sono resa conto che quell'operazione con gli occhi che ho oggi era un'operazione sbagliata dal mio punto di vista un'operazione fatta sicuramente in buona fede sicuramente con le migliori intenzioni ma dove a raccontare quella storia c'era un un corpo e e e un e un interprete che in qualche modo rispondeva a una produzione che decideva di appropriarsi anche di una storia e di appropriarsi anche di un 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 dolore un un momento di vita e di transizione estremamente violento quindi sono ritornata su questo testo perché mi sto veramente interrogando ed è una domanda che per me è aperta nel momento in cui scriviamo dei personaggi di finizione abbiamo il diritto di scriverli? Io penso di sì come con quale modalità basandoci sulla finzione sulla fantasia o forse invece facendo un lavoro che non si ispira soltanto da un fatto a un fatto di cronaca ma che magari prova a dialogare con i protagonisti e le protagoniste di quella storia questa è la scelta che in questo momento io come autrice mi sento di abbracciare quindi di entrare in relazione con l'altro non di immaginarlo e basta forse in questo momento l'immaginazione non non è più sufficiente ripeto quando ho visto quello spettacolo mi sembrava una grande occasione di raccontare a un pubblico di persone in sala con le parole del teatro e quindi anche con delle parole che non sono parole sensazionalistiche non sono parole che vengono ripetute in maniera sempre uguale che quindi ci dimentichiamo ma sono parole che sposano delle emozioni e sposano un linguaggio che è quello del corpo e della presenza in scena quindi mi sembrava un'operazione giusta e oggi la guardo e mi interrogo su questa operazione e mi chiedo quanto sia importante che sulla scena sempre di più ci siano interpreti che che hanno un altro colore della pelle che hanno delle altre storie da raccontare e forse non solo delle storie di migranti perché questo è un altro tema spesso nella drammaturgia italiana contemporanea le storie legate a persone nere sono storie che vedono queste persone rappresentate in personaggi appunto costretti a una migrazione ecco quindi anche in questo senso c'è la necessità di trovare dei personaggi che possano raccontare altro che possano raccontare di una vita diversa da da questa narrazione univoca che poi ci porta a ritornare al personaggio di Tarantino che si chiude e si barrica dietro la sua porta e che non vuole aprire a nessuno tra l'altro Giulia so che Elina Prosa fa una premessa nella sua trilogia la posso leggere magari grazie perché affronta proprio questo aspetto e lo fa come dire senza dare necessariamente risposte come piace noi ma aprendo comunque un po' al dibattito e al dubbio sì allora nelle note che l'autrice scrive all'inizio del terzo capitolo del terzo atto unico Lampedusa Way scrive così nota per voi non sembrino troppo ingenui Mahama e Saif la loro ingenuità nasce dal divario che c'è tra il loro mondo e il nostro mondo per arrivare al cuore di tale divario io mi sono ispirata all'ingenuità di mia madre e mio padre che sono morti senza mai vedere Roma quindi alla realtà la più cara a me e qui sentiamo che l'ispirazione dell'autrice è un'ispirazione che ancora una volta attinge a un mondo culturale a lei vicino e prossimo e per me la domanda che si apre è invece aprire il dialogo aprire l'ascolto aprire il confronto con dei mondi che non sono vicini o prossimi e poi c'è una nota sui personaggi e la nota sui personaggi dice così nota sui personaggi per attori bianchi allo stesso modo in cui un attore di natura pacifica può interpretare il personaggio di un omicida così un attore bianco può interpretare un personaggio nero ora è chiaro che questa frase scritta nel 2013 aveva un peso oggi ha tutt'altro peso all'interno della discussione pubblica intorno a questi temi anche in Italia per fortuna questo da un lato ci fa anche ben sperare perché vuol dire che nel dibattito pubblico qualcosa si muove e si smuove questo non può che essere positivo anche perché appunto cambia un po' la sensibilità e chissà io come interprete come attore posso interpretare una emozione uno stato d'animo un sentimento posso come dice l'autrice animo pacifico interpretare e dare voce invece a sentimenti arroganti sentimenti violenti però il mio corpo che è fisico fino a che punto è giusto che interpreti altri corpi corpi che sono altro da me e che inevitabilmente raccontano e portano storie che sono altre rispetto alle mie a proposito di questa considerazione quello che noto e sto notando soprattutto a Milano nella produzione culturale di spettacoli a Milano è che sempre di più sulle scene ci sono persone con background migratorio che interpretano e danno voce a dei personaggi sono testi questi di cui sto parlando ancora una volta scritti da persone da persone bianche ma che vedono in scena appunto interpreti con background migratorio e non sono testi ancora pubblicati ma ci tengo a nominarne tre che dovrebbero uscire in una collana perché l'anno scorso c'è stata un'esperienza interessante in realtà un'esperienza che è durata diversi anni che ha portato alla realizzazione di uno spettacolo in questo caso diviso ancora una volta in tre atti unici questa forma dell'atto unico sta tornando molto questa sera quindi forse l'atto unico che ha una forma breve perché in 30 pagine senza cambiare luogo o tempo ci concentriamo sulle dinamiche di relazione tra i personaggi e sulle identità dei personaggi lo nomino perché mi sembra interessante ecco dicevo questi tre atti unici sono stati presentati all'interno di uno spettacolo dal titolo Colore X realizzato da una compagnia milanese che si chiama Anima Nera che ha tenuto dei laboratori in diversi in diversi spazi municipali della città di Milano soprattutto nelle periferie ma non solo e ha tenuto dei laboratori dove a condurre i laboratori c'erano attori attrici e interpreti di seconde generazioni e da questi laboratori sono nati degli scritti che poi sono stati organizzati da due drammaturge e un drammaturgo in tre testi La panchina di Davide Carnevali L'uomo con gli occhiali di Greta Cappelletti e Mani blu di Magdalena Barile La panchina è un testo in cui si affronta il mondo dello sport su questa panchina ci sono due giovani calciatori di seconda generazione che attraverso la metafora del calcio affrontano anche dei conflitti e dei conflitti di relazione che avvengono per esempio tra coetanei e anche in questo caso il testo La panchina risuona in queste in queste ultime settimane in cui abbiamo comunque assistito e visto anche lo stadio purtroppo come un luogo ancora dove il razzismo è presente e si fa sentire ma viene anche contestato e contrastato e poi abbiamo L'uomo con gli occhiali che è un testo di Greta Cappelletti in cui l'interprete indossa degli occhiali degli occhiali molto molto appariscenti e tutto il monologo ruota intorno a la discriminazione il bullismo lo scherno che la sua miopia e quindi questi occhiali creano nel mondo che lo circonda a indossare questi occhiali naturalmente c'è un attore un attore nero e quindi questa metafora dell'occhiale diventa anche metafora del corpo che la indossa il terzo testo Mani Blu è un testo invece in cui una madre e un figlio si confrontano e confliggono intorno ai valori di due generazioni diverse che oltre ad avere appunto una distanza anagrafica hanno anche una distanza rispetto a l'identità con il paese di origine e Viviana vi ha copiato in chat il link a un articolo di A Teatro molto interessante che racconta l'esperienza di Anima Nera quindi nell'attesa della pubblicazione di questi testi intanto possiamo leggere possiamo leggere l'articolo e trovare anche i nomi degli interpreti e delle e delle interpreti e in scena ci tengo a a dirlo ci sono Martin Shishimba Yudel Colaso e Calagua Rodriguez che interpretano tutti i personaggi di questi differenti quadri quindi si ritrovano in scena cambiando di volta in volta personaggio a seconda del lato unico che inizia e che si svolge sulla scena e quindi fino a qui abbiamo visto una bibliografia che vede delle penne degli autori e degli autrici che scrivono che scrivono di personaggi con dei background migratori o dei personaggi razzializzati ma ci sono anche delle esperienze di autori e autrici di seconde generazioni che iniziano a scrivere non sono ancora pubblicati per quanto Fabula Mundi stia raccogliendo questi testi e lanciando delle call per scritture per le seconde generazioni Fabula Mundi è un'organizzazione che si occupa di drammaturgia contemporanea a livello nazionale e internazionale e ha proprio un progetto legato alla drammaturgia e alle seconde generazioni ma si affacciano non tanto sulle scene dei teatri quanto sulle ribalte dei locali perché il genere che in questo momento sta parlando di più il linguaggio di attori e attrici di seconde generazioni che decidono anche di scrivere è quello della stand-up comedy e ci sono tanti nomi di autori e di autrici questa sera io mi sono concentrata su un autore che ho un autore attore che ho potuto incontrare dal vivo quest'estate ad un festival organizzato da Milano Mediterranea Milano Mediterranea è un'organizzazione che si occupa proprio di dare spazio voce riconoscimento a artisti e artiste di seconde generazioni e lo fa anche attraverso un festival che si chiama Twisa che ha la sua terza edizione e ha una scuola decoloniale aperta a tutti quelli che vogliono prendervi parte e in questo caso l'autore è John Modupe lui nasce come podcaster e come stand-up comedian italo-nigeriano è nato a Parma nel 1993 è diventato diciamo è diventato conosciuto attraverso un podcast comico che si intitola OMJ Podcast e da qui dall'esperienza di podcasting inizia a scrivere e pubblicare i suoi primi monologhi dove tratta degli argomenti di attualità appunto sul pezzo con una visione critica e ironica e spesso provocatoria nel 2021 debutta ufficialmente nel mondo della stand-up comedy e nel 2000 con un breve pezzo e nel 2023 nasce il suo primo spettacolo completo che si intitola Il Cugino di Carlo Magno abbiamo un estratto che vorrei raccontarvi e un po' leggervi è un numero la stand-up si compone per numeri la sera in cui ho visto John all'opera stava scrivendo il suo testo quindi stava usando l'occasione del festival per testare i suoi numeri per capire se funzionavano per capire quale fosse la reazione del pubblico quale pubblico? un pubblico finalmente direi in maniera piuttosto unica ancora in Italia anche a Milano un pubblico decisamente misto di persone bianche di persone nere di persone di seconde generazioni di persone italiane a tutti gli effetti e di persone italiane in lotta per i loro diritti di cittadinanza e davanti a questo pubblico ha capito quali potevano essere i numeri che funzionavano e quali i numeri che non funzionavano tra questi numeri ce n'è uno che è quello che voglio condividere con voi e ha a che fare con anche qui con una figura stereotipata di straniero che è quella del Vucumpra chiedo a Luca di condividere con noi il testo allora il testo io non lo leggerò se non per condurvi a notare alcune cose che trovo interessanti nel rapporto con la scrittura e con il pubblico perché quello che faremo è condividere con voi il link al video dove potete vedere John interpretare questo pezzo dal punto di vista formale l'intero spettacolo è costruito sulla forma del monologo monologo che vede la prima persona quindi John lui il performer che si interfaccia con il pubblico e poi vede John interpretare una serie di personaggi neri bianchi poco importa sicuramente sono personaggi che a lui servono per raccontare delle forme stereotipizzate di sguardo sul corpo nero in questo frammento lui parla di un episodio la tipica gita delle medie come abbiamo visto è nato in Italia nel 1993 ce lo immaginiamo in vacanza in gita con la scuola con i suoi compagni di classe quando in questa gita a un certo punto viene visto e approcciato da un vucumpra il quale gli si rivolge appellandolo fratello e iniziando a cercare con lui una una un'intimità unico una confidenza e questa intimità e questa confidenza che lo straniero porta su John lo destabilizza nello sketch fa una battuta e parla del di un unsolicited negro bonding tradotto legame non richiesto con un negro a caso e questo perché perché nel pezzo lui ci ci racconta che per molti anni nonostante fosse la sola persona nera appunto nella stanza nella scuola lui si è sentito bianco tanto quanto gli altri e nel momento in cui una persona nera lo lo riconosce tra virgolette all'interno di una comunità come suo fratello lui a quel punto si sente estremamente in difficoltà davanti ai suoi compagni di classe immaginate dei dodicenni dei tredicenni e quanto possono essere crudeli dei dodici e dei tredicenni con i con i propri compagni e con le proprie compagne e infatti ecco che questi dodicenni e i tredicenni che lui interpreta si scagliano su di lui dicendogli appunto iniziando a prenderlo in giro dicendogli che ma quello chi è è tuo padre che ti conosce ah forse è papà forse è papà ti ha anche chiamato per nome che strano che sappia il tuo nome perché ti chiama fratello quindi appunto queste voci del fuori che minano che minano in maniera in maniera forte la l'identità e c'è un altro sketch che poi vi lascio scoprire all'interno del video ma lo nomino soltanto il motivo per cui questo Vucun Pra si avvicina a John oltre a riconoscerlo come suo simile tra virgolette è perché gli vuole vendere dei Ringo e qui John apre tutto uno sketch sulla pubblicità degli anni 90 della Ringo People che forse molti di noi e molti di voi ricordano in cui appunto due mani si incontrano si battono il 5 in segno di unità una mano una mano nera una mano bianca ecco solo che questa mano nera dal racconto che fa John qui è anche la mano di chi poi si sente visto e riconosciuto come un biscotto al cioccolato piuttosto che come una persona quale qual è questo estratto vi consiglio veramente di guardarlo e condivideremo con voi nella bibliografia altri nomi di autrici e autori di seconda generazione che stanno scrivendo e che stanno portando i loro pezzi sulla scena una tra tutte che vorrei citare è Yoko Yamada trentenne bresciano nipponica che gioca a raccontare e smontare gli stereotipi che riguardano le sue due culture ecco noi c'eravamo posti il dubbio questo video tratto da YouTube di questo momento di stand up comedy di John Modupe lo riusciamo a inserire all'interno dei nostri incontri come facciamo per condividerlo abbiamo messo il link vi invitiamo davvero caldamente al termine di questo incontro magari copiatevelo già con gli strumenti informatici di andare a vederlo anche perché come ci suggeriva Giulia molto interessante non solo la resa chiaramente proprio da stand up comedy dell'autore interprete ma anche la reazione del pubblico un pubblico misto che chissà se reagisce allo stesso modo e con la stessa sensibilità poi alle battute e alle dinamiche messe sul palco beh niente Giulia noi ti ringraziamo tanto per questa condivisione la condivisione di queste riflessioni arrivati a questo momento rispettiamo quella che ormai è una tradizione consolidata vero Viviana? Sì volevamo appunto presentarvi i corsi i corsi attivi di Matearium ecco adesso condivido la slide così ve li mostro nel frattempo racconto un po' di che si tratta e dunque il primo corso è scrivi con metodo e appunto insomma sta è alle porte perché appunto inizia proprio l'otto l'otto di febbraio e si tratta di un di un percorso di affiancamento alla scrittura di un di un testo teatrale di una scrittura originale propria quindi si presenta si partecipa con un proprio progetto personale e all'interno del percorso scrivi con metodo in una classe quindi è un è un lavoro collettivo step by step si ogni ognuno appunto cresce lavora lavora il proprio testo attraverso appunto la guida di Alessandro Di Paoli e Stefania e Stefania Orsella il secondo il secondo appuntamento è un po' più in là ma ci teniamo a parlarne già adesso perché si tratta di una residenza drammaturgica che si terrà a luglio presso il bellissimo mulino Nicli nella località Rive d'Arcano in provincia di Udine ma ha visto che comunque si tratta di una residenza di cinque giorni ecco magari si può già iniziare a fare dei progetti per l'estate già da adesso quindi si tratta di una residenza con un totale di 20 ore di laboratorio di scrittura è aperto ad otto drammaturge e drammaturghi e quindi è una vacanza totalmente dedicata alla scrittura e anche qui si partecipa con un proprio progetto a livello che sia a livello ancora embrionale ma adesso non tolgo altro tempo al nostro appuntamento ma vi invito a leggere la presentazione sulla pagina dedicata al sito in cui appunto è spiegato tutto le regole per la partecipazione e l'organizzazione della residenza e tra l'altro scusa Viviana se ti interrompo se non lo avete ancora fatto iscrivetevi alla nostra newsletter proprio per restare sempre così aggiornati su tutte quelle che sono le proposte che Mattearium ha il piacere di sottoporvi il terzo corso che vi presentiamo è il corso base di scrittura teatrale online come scrivi con metodo ed è un corso teorico sulla scrittura teatrale in sei lezioni da un'ora e mezza appunto si gettano le basi per appunto studiare quelli che sono un po' i capisaldi della scrittura drammaturgica e quindi non si partecipa con un proprio progetto ma è un corso teorico in cui anche si si legge molto nel senso che si impara dai maestri e dalle maestre della della drammaturgia e abbiamo attivato un'altra classe quindi c'è una classe che è già chiusa che parte parte a febbraio e abbiamo aperto una seconda classe che partirà proprio il 16 febbraio quindi le iscrizioni sono aperte al momento il sito non è ancora aggiornato su quest'ultima proposta del 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 16 febbraio che quindi le lezioni si terranno di venerdì perché insomma l'abbiamo deciso proprio da poco però potete scriverci per avere informazioni sul calendario e comunque a giorni aggiorneremo anche il il sito e sì adesso siamo un po' fuori coi tempi però abbiamo questo momento interattivo nel quale vogliamo sentire un po' anche qualche vostra considerazione care amiche cari amici che vi collegate con tanta costanza a questi appuntamenti e quindi vorremmo farvi vorremmo farvi una domanda legata un po' a quello che è il tema caldo di questi due appuntamenti di gennaio Vivi dunque la domanda riguarda proprio la scrittura riguarda riguarda appunto quelle che sono le risorse che dobbiamo mettere in campo quando dobbiamo affrontare una storia come dalla parte della creazione e la domanda è secondo voi cosa mettiamo in campo quando dobbiamo scrivere una storia che non ci riguarda in prima persona e andando appunto approfondire questa domanda nel momento in cui ci troviamo come autori e come autrici a scrivere di persone che hanno uno sguardo differente molto diverso dal nostro hanno una prospettiva sul presente sul quotidiano che è molto diversa dalla nostra e noi dobbiamo in qualche modo farci portatori e portatrici della loro voce a che cosa dobbiamo prestare attenzione e quali sono le risorse che dobbiamo mettere in campo quindi come fare per non farci stringere da un abito culturale che guida il nostro il nostro sguardo che potrebbe appunto deviare una uno uno sguardo giusto rispetto a questi personaggi quindi vi chiediamo proprio di mettervi nei panni di una persona che che approccia la scrittura di di un personaggio che ha una prospettiva differente dalla vostra e secondo voi anche alla luce di questi di queste riflessioni che abbiamo fatto in questi due incontri quali sono le i campanelli d'allarme che dobbiamo far suonare nelle nelle nostre penne nelle nostre menti e quali sono le risorse che dobbiamo rafforzare appunto e mettere in campo nella nostra scrittura quindi se la domanda mi rendo conto che è complessa ma se la domanda è chiara se non è chiara scriveteci in chat di dichiarirla e nel frattempo nel mentre mentre pensate a cosa condividere con noi chiedo a Giulia quali sono visto che appunto proprio in questo periodo sta affrontando una scrittura una sfida di questo tipo quali sono le risorse che lei sta mettendo in campo sì grazie allora in questo caso io sto scrivendo un personaggio protagonista che è una ragazza adolescente di seconda generazione quindi che per età per background per esperienza di vita e per diritti è molto lontana da quello che sono io quindi quello che sto facendo è parlare e discutere anche con ragazzi e ragazze adolescenti che hanno questo che sono in questa situazione e che si stanno rendendo conto sempre di più avvicinandosi al compimento dei loro 18 anni di non avere a disposizione un documento che può modificare le sorti del loro futuro quindi ecco per me in questo momento è il chiedere e il raccogliere e anche poi scrivere e nello scrivere restituire quello che ho scritto e adesso ho organizzato un comitato un piccolo comitato di sono otto persone soprattutto ragazze sono due ragazzi e sei ragazze che stanno leggendo le mie schede dei personaggi e mi stanno dicendo tutto quello che non funziona secondo loro wow benissimo scusa Luca vedo che la chat comincia a essere calda che bene e che bello Ida ci riporta un verbo molto importante che è ascoltare credo che sia un punto di partenza fondamentale nel momento in cui si decide di approcciarsi ad una storia che ha queste dinamiche leggo così velocemente la mia esperienza oltre a leggere documentarsi un passaggio fondamentale riuscire ad ascoltare le storie personali perché questo fa entrare in maggiore empatia ecco un'altra parola che sicuramente può diventare uno strumento utile quando si ragiona su questi temi che è questa empatia questa necessità che si ha di provare di entrare nelle emozioni dell'altro prima è stata data una definizione interessante di fascismo il rifiuto dell'altro da sé ecco forse in questo caso possiamo dire che l'empatia è l'esatto contrario del fascismo sì Luca è proprio così quello che scrive Ida mi sembra molto simile a quello che dice anche Giulia cioè andare proprio a incontrare le persone quindi sì leggere documentarsi che è certamente fondamentale ma anche diciamo ascoltare le storie personali perché la storia personale è qualcosa che ci restituisce un vissuto nel momento in cui avviene un presente qualcosa che magari appunto nella notizia nel documento pubblico magari ancora non è arrivato ad una definizione fissa ecco quindi stare stare un ascolto che sia attivo esatto esatto e la stessa Annalisa sempre in chat ci dice vivere il personaggio assumere gli atteggiamenti del personaggio vivere le piccole cose della quotidianità iniziare a pensare come il personaggio proprio no ritorno a questa parola l'empatia e chiaramente questo vivere il personaggio no poi dipende da chi è il personaggio da quale è il suo vissuto non sempre è facile riuscire a entrare in entrare nelle scarpe si suole dire talvolta dell'altro per capire cosa questo prova però è una cosa che chi scrive deve poter riuscire a fare mi colpisce di Annalisa questo concentrarsi sulle piccole cose della quotidianità perché a volte è proprio tra queste pieghe del quotidiano che l'altro si manifesta Alessandro dice una cosa fondamentale cioè mettersi in discussione quindi essere pronto a perdere a cambiare idea quindi essere completamente pronto ad essere smentito di essere sì questo è fondamentale perché appunto comincio a leggere il commento di Emanuele il dato culturale è talmente radicato in profondità che dobbiamo stare l'attenzione deve essere veramente molto molto attiva dice bene radicato in profondità a volte il nostro passato coloniale è così presente nel quotidiano di oggi che quasi fatichiamo a volte a coglierne i segni come se fosse un rumore di sottofondo a cui non si presta più attenzione un esempio fra tutti oggi per vedere alcune opere artistiche tra le più importanti nella storia millenaria dell'Africa e dei suoi paesi bisogna andare nei musei europei e lo diamo quasi per scontato sì Manuela dice che cadere nel cliché è forse un rischio inevitabile certo è un rischio che esiste probabilmente dovremmo aspettare altre generazioni che riescano appunto a liberarsi di questi di questi condizionamenti così profondi e poi Chiara ci dice ci parla dei privilegi di cui godiamo rispetto alla persona chiedermi e chiedere in che modo la persona vive esperienze di discriminazioni chiedere feedback alla persona che sta rappresentando alle persone con esperienze simili non assumere un atteggiamento paternalista tra l'altro condivido Chiara e tra l'altro Giulia due settimane fa condivise con noi un pensiero che mi è rimasto su cui ho ragionato in queste giornate che era quello del senso di colpa attenzione un senso di colpa che non diventi castrante che non diventi una gabbia che ci impedisce di di aprirci anche con ottimismo e positività al futuro io volevo riprendere dalla chat quello che dice Manuela rispetto a il fatto che pensare appunto che un attore con la pelle nera possa raccontare esclusivamente storie di migrazione è un fatto culturale nostro e assolutamente hai assolutamente ragione quindi appunto sarebbe anche interessante capire come un certo una discussione che ho avuto con il gruppo è stata anche quella di di un'osservazione che diceva quanto continuare a vedere le differenze invece di vedere i punti di contatto e quanto la differenza ci continua a far pensare a un nostro loro a un mondo culturale a un altro mondo culturale quindi sì cioè in effetti se penso a altri spettacoli visti in teatri a Londra o in Canada o in Francia meno perché c'è un discorso sul physique du rôle molto ancora forte secondo me però dove non importa il colore della pelle non importa la provenienza non importa il background c'è un personaggio che viene interpretato appunto sì e l'altra cosa che mi interessava era nell'intervento di Anna quando Anna scrive d'altra parte forse fa parte del gioco che non tutti gli autori autrici possano raccontare tutte le storie questo mi sembra anche un bello spunto quali storie possiamo raccontare certo l'autore l'autrice non è onnisciente non è onnipotente e quindi è importante fare i conti con tutti quelli che sono i nostri condizionamenti culturali di cui siamo guidati di cui magari non siamo totalmente in grado di affrancarci esatto infatti Ida anche riporta e dice facendo sempre riferimento rispondendo a Manuela dice condivido quanto scritto forse dovremmo considerare di scrivere storie di persone normali e uguali indipendentemente dal colore della pelle Federica ci suggerisce propone una sorta di iter quasi nella costruzione si parte da un processo immaginifico proprio perché ci rivolgiamo un personaggio che è altro da noi ricorriamo prima all'immagine che abbiamo dell'altro se ne parlava anche due settimane fa l'immaginazione è uno strumento fondamentale per chi crea deve diventare uno strumento che aggiunge non deve diventare uno strumento che vela che nasconde una realtà che è giusto e che merita di essere portata in scena wow che belle che belle considerazioni che belle riflessioni molto profonde sì anche perché noi consapevoli un po' della complessità della domanda avevamo paura che così che questa volta la chat potesse essere più timida e invece no siete confermate e confermate attentissime attentissimi fruitori di questo spazio di questo momento e di questo comunque ci sentiamo di dirvi grazie perché diventa anche molto gratificante per tutti noi quindi prima di salutarci una piccola cosa assolutamente secondo me doverosa una richiesta a Giulia di raccontarci quando potremo vedere il suo spettacolo quando potremo leggere il suo testo darci qualche informazione perché abbiamo seguito ci hai regalato il tuo processo creativo la tua ricerca adesso insomma siamo siamo curiosi e curiosi di appunto di vedere questo frutto sì la buona notizia di qualche giorno fa è che lo spettacolo sarà programmato a inizio ottobre all'interno della stagione culturale di zona K che è uno spazio del teatro contemporaneo di Milano e quindi a ottobre ci sarà il debutto ufficiale e non sulle stampe non lo so però forse si potrebbe iniziare a introdurre una pratica un po' più internazionale per cui la compagnia stampa in maniera in maniera così informale e autoprodotta una piccola rilegatura del copione in modo che possa essere poi letto quindi vi terremo vi terremo aggiornati sul processo grazie grazie a voi grazie grazie davvero grazie Giulia dunque come si diceva siamo giunti un po' al termine di questi due appuntamenti di gennaio dedicati come abbiamo visto alla decolonizzazione delle storie quando a dicembre siamo partiti con questi incontri avevamo dei dubbi sull'impostazione da dare sui temi stessi sulle opere però poi strada facendo insieme a voi abbiamo capito che l'obiettivo primario era comunque esserci condividere spunti riflessioni delle letture in uno spazio comune che è dedicato alla contemporaneità e come a questa vive nel teatro e nella convinzione che i temi caldi non sono esauriti vi confermiamo che Storia sul pezzo non finisce qui ci prendiamo una pausa però riprenderemo a maggio quindi segnatelo già sul vostro calendario cartaceo digitale che sia mi raccomando maggio anticipiamo il tema del prossimo appuntamento no vi lasciamo a suspense però vi diamo un indizio diciamo che parleremo di un tema che crediamo diventerà sempre più caldo e ineludibile con il passare del tempo bene cara Giulia cara Viviana cara Tutamatearium che ci segue in questo momento e soprattutto cari amiche e cari amici grazie davvero di cuore ci sentiamo presto e mi raccomando andatevi a vedere il video di stand up comedy di John Modupe e restate mi raccomando sempre sul pezzo ciao a tutte ciao grazie grazie mille ciao ciao ciao